Coach Foglietti, tutto facile o quasi oggi per la sua squadra contro la giovanissima Mastria Vending Catanzaro? No, adesso è proprio facile, siamo partiti bene, ci erano raggiunti, abbiamo preso altri 14 punti di vantaggio, siamo arrivati a 7-8, quindi comunque anche Catanzaro mi è sembrata una squadra che nonostante sia giovane può sicuramente nel corso del campionato migliorare. Noi abbiamo fatto il nostro compitino, non abbiamo fatto niente di eccezionale, però probabilmente è merito anche dei ragazzi di Catanzaro. Che campionato sarà questo secondo lei? Ma è un campionato che secondo me è molto equilibrato, adesso l'anno scorso eravamo tutti nel giro di 6 punti o 4, quest'anno non lo so, adesso mi sembra che Campli abbia qualcosa in meno, dopo non so, ci sono 3 retrocessioni mi pare. Però a parte Sansevero che farà un campionato a sé, Sansevero e Chieti, gli altri secondo me più o meno bisognerà vedere gli infortuni e tutte le cose come si evolverà il campionato. Catanzaro secondo lei? Come ho detto prima, Catanzaro secondo me può solo migliorare perché comunque è la caratteristica dei giovani, iniziare un campionato nuovo magari per molti che hanno tanti minuti, inizia può essere un po', però quando riescono ad abituarsi sicuramente qualche risultato arriverà, sicuramente sarà dura. Come ho detto prima, Catanzaro secondo me può solo migliorare perché non lo so, non lo so, non lo so, non lo so.